Sulla scena di quanto bene Quanto Basta nasce da un'intuizione, una cosa che viene dall'esperienza di noi meridionali, cioè l'intuizione semplicissima è come vivono quelle persone che stanno lì affacciate ai balconi per ore e ore, soprattutto nei tardi pomeriggi estivi o fuori dalla porta dei bassi destati. Nei centri storici soprattutto. Ecco, sono partito da sto flash qui e ho pensato a una coppia di anziani baresi, di un quartiere piccolo-burghese della città, alle prese con la vita quotidiana. Di piccole battaglie quotidiane che tra persone anziane succedono spesso, che sembra preludano a separazioni o a conflitti enormi, ma in realtà sono un modo diverso di raccontare l'amore. Passiamo subito ai personaggi, un po' come avete impostato questi ruoli. Mi sono ispirato a alcune figure della mia famiglia, però abbiamo aggiunto dell'altro, abbiamo aggiunto la narrazione di un legame che quando si intuisce che può spezzarsi, per la malattia di uno, la malattia dell'altro diventa qualcosa, l'amore, il legame che c'è emerge subito. E a Lucia come si fa ad interpretare la realtà? Come si fa ad non essere un cliché sulla scena? Bisogna semplicemente non fare niente, ascoltare quello che avviene in quel momento intorno a te ed essere presente come lo sia nella vita. Non bisogna fare gli attori, non bisogna arrivare lì e dire io devo recitare, allora mi devo mettere in posizione, devo usare la voce. Perché proprio loro? Perché hai scelto questi due attori per questo pezzo difficile? Perché bisogna essere così normalmente sulla scena, non esagerare. No, certi registi dicono che è importante togliere dal teatro per far venire qualcosa di bello. Perché proprio loro? Gli americani dicono less is more, no? Togliere, togliere, togliere e a noi piace, anche perché adesso il teatro contemporaneo ha meno bisogno di questa continua sorveglianza. Perché loro due? Perché con Paolo, parto da lui, c'è una vecchia frequentazione, siamo per così dire fratelli, in arte abbiamo fatto tantissime cose insieme, ci vogliamo bene e siamo cresciuti insieme. E sappiamo quanto possiamo dare l'uno all'altro. Lucia è stata una conoscenza, la stimavo già ma non la conoscevo personalmente ed è stata, come dire, una sorpresa pazzesca. Lucia Zotti è un'attrice che ha dedicato la sua vita al teatro, l'ha dedicata pienamente, 24 ore al giorno, spesso occupandosi anche di giovani attori e attrici. Io credo che Lucia Zotti sia un monumento vivente e a questo punto le istituzioni dovrebbero riconoscergli qualcosa. E adesso parliamo della scena più difficile di questo spettacolo. Qual è, secondo te, quella che magari all'inizio ti ha un po' preoccupato o ha preoccupato gli attori? Io vengo dal cinema e per me col cinema è tutto, per certi versi, più facile e più difficile. Sicuramente questo progetto, questo spettacolo mi sta dando moltissimo perché il mio accanimento sulla perfezione, presunta perfezione, questo inseguimento della perfezione a teatro è possibile, è accettabile fino a un certo punto. Lo spettacolo è passato nelle mani loro, tra l'altro dopo un proficuo lavoro di improvvisazione, è durato alcune settimane e quindi adesso io non pretendo, so perfettamente che ogni sera è diverso. Io in questi giorni sto veramente maturando la consapevolezza che questo spettacolo ha tre protagonisti, non due. Questa coppia di anziani coniugi stuporosi e affascinanti e quelli che stanno da quella parte là, il pubblico che partecipa in un modo incredibile. Ieri abbiamo contato 12 applausi a scena aperta. Quindi tu dopo ogni replica hai qualcosa da consigliare a loro oppure no? O impari? Impari dal pubblico del momento? Imparo dal pubblico moltissimo e godo di questa partecipazione, ma so che non è un merito solo mio, mentre invece tornando al discorso della scena più difficile, io credo che forse la scena più emblematica di questo spettacolo sia questa telefonata che arriva a loro inaspettata in scena mentre stanno parlando di altro e succede una cosa che io ho semplicemente lanciato sul tavolo come tema. Il resto, che voi potreste vedere nello spettacolo, è il frutto di un lavoro di improvvisazione fatto con loro due ed è, credo, il simbolo di questo spettacolo. Grazie mille per essere stati con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Ciao Dietro le Quinte, vi aspettiamo a teatro. Un saluto a tutti gli amici di Dietro le Quinte. Vi apro le porte della mia stanza segreta. Venite. Teatro Vascello, qui questa sera, poetica, regia di Tindaro Granata, va in scena la poesia. Raccontaci di questo progetto. Abbiamo preso le poesie di Franco Arminio, della prima parte poetica, quando lui parlava esclusivamente di paesi abbandonati, infatti è stato denominato il paesologo. E per raccontare un abbandono ideale, ci sono cinque storie di cinque persone che hanno abbandonato qualcosa, un sogno, una casa, una famiglia, un ideale, noi abbiamo messo dentro la nostra drammaturgia tutte le poesie di Franco Arminio, incastonate, nascoste, alcune volte dichiarate. Però la cosa interessante è che noi siamo qui sulla scena che vediamo una serie di stendini che cosa rappresentano, cioè come hai lavorato per coniugare un po' idea scenografica con proprio il plot dell'opera. L'idea è venuta a Margherita Baldoni che è la nostra scenografa e costumista, ma ci siamo ispirati a una poesia di Franco Arminio che dice Francesca Porrini ma anche Caterina Carpio. Spesso nelle sue poesie lui parla delle mollette appese nei balconi. Ascoltiamo proprio dalle protagoniste e dai protagonisti che cosa rappresenta questo stendino per la vostra storia e il vostro personaggio. Nel mio caso i miei personaggi, che sono due, sono due personaggi, due figure femminili, usano lo stendino come un vero e proprio stendino, cioè proprio stendono i panni, quindi questo rito se vogliamo, che come diceva Tindaro è proprio della nostra tradizione popolare. Invece l'emozione che caratterizza il tuo monologo, il tuo pezzo? Parla di un abbandono, di un desiderio, di un sogno e infatti il mio stendino ha anche a che fare con il lutto perché questa persona ha perso un proprio caro e infatti diventa un piccolo altare in cui mettere dei lumini di ricordo. Passiamo alle altre forme di abbandono. Il mio personaggio abbandona un amore, il tetto coniugale, lo stendino diventa un tavolo in cui lei poggia questa valigia. E proseguiamo con la funzione dello stendino nella tua storia. Nel mio caso lo stendino diventa una camera oscura e vengono stese delle fotografie, come appunto quando vengono immerse nell'acido, è simbolico, non ci sono neanche foto, ci sono delle cartellette trasparenti proprio per raccontare anche il potere dell'immaginazione. Ma qual è tra queste storie quella un po' più drammatica, difficile, intensa, che richiede una concentrazione particolare dell'attore? L'idea che noi abbiamo avuto tutti insieme quando abbiamo deciso di fare questo spettacolo è che al pubblico dovevamo consegnare un abbraccio, una carezza, una dolcezza, qualche cosa. A noi piace molto l'idea che chi viene a vedere questo spettacolo poi esca dicendo mi sono sentito voluto bene, mi sono sentita voluta bene. Anche perché noi diciamo sempre una cosa prima di entrare in scena, non dobbiamo dimostrare cosa abbiamo fatto, ma dobbiamo condividere il percorso poetico che abbiamo fatto. E parliamo adesso con la direttrice, l'anima, l'anima del teatro Vascello. Raccontaci un po' di come è andata questa stagione e anche della mission del teatro. Beh, dunque devo dire che questa stagione 23-24 che si sta concludendo con gli ultimi tre spettacoli e a dir poco è stata strepitosa. Non lo so, posso fare giusto dei nomi. Abbiamo cominciato con Pagliacci all'uscita di Roberto Lattini, poi non so abbiamo avuto il Galileo di Rifici con un meraviglioso Lazzarischi, abbiamo avuto il De Gasperi con Paolo Piero Bon, abbiamo avuto Lino Musella con due spettacoli. L'ultimo spettacolo di Rezza, Ibris, 4-5-6 di Mattia Torre, Salveremo il mondo prima dell'alba di Carrozzeria Orfeo, Fettarappa con Asparanoia, abbiamo avuto Lucinda Childs, un progetto con Michele Pugliani di Danza, uno spettacolo pazzesco, meraviglioso. Lozio Vania di Lidi e poi adesso abbiamo concluso con La ragazza sul divano proprio pochi giorni fa di John Fosse con la regia di Binasco, con una Pamela Villoresi strepitosa, lo stesso Binasco, Isabella Ferrari, bravissima. E poi finiremo con gli ultimi crepuscoli sulla terra da Bolagno, la drammaturgia, la regia di Fabio Condemi e poi avremo, questo è il tempo in cui attendo la grazia dalle sceneggiature di Pasolini con il meraviglioso Gabriele Portoghesi, sempre regia di Condemi. E finiamo la stagione con la Maria Brasca di Testori per la regia di Andrè Ruth Chammà del Teatro Franco Parenti e lei è Marina Rocco, la Maria Brasca. Ma sono felice anche perché i nostri spettacoli dei ragazzi che io sto tirando su stanno avendo un grandissimo successo. Per esempio adesso c'è in tournée Cirano Non deve morire di Leonardo Manzan che ha finito proprio adesso una bellissima tournée. Lisa Ferlazzo Natoli con lo spettacolo L'amore del cuore di Keryl Churchill adesso finisce la tournée a Londra addirittura. Fabiana Iacozzilli anche lei con la sua trilogia. Diamo un consiglio per i giovani che vogliono fare teatro. Bisogna andare a teatro, vari teatri anche perché così si capisce la differenza. Perché io mi accorgo a volte andando a teatro che la gente non riesce più a capire che cosa voglia dire saper recitare bene. A parte vedere tanti stili perché c'è il teatro classico, c'è il teatro contemporaneo, c'è il teatro di ricerca, c'è il teatro di figura per esempio. Anche il teatro danza, quindi costa molto meno di una pizza il teatro e credetemi ne vale di più la pena. E adesso un saluto particolare al pubblico di Dietro le Quinte. Beh, spero di vedervi la prossima stagione al Teatro Vascello perché tra poco io lancerò appunto la stagione 24 e 25 e vi assicuro che anche questa sarà una stagione meravigliosa da vivere insieme qui al Teatro Vascello. E per ultimo soltanto una cosa che nel 24 la fabbrica dell'attore, quindi la cooperativa che gestisce il Teatro Vascello compierà 50 anni. E io a settembre farò uno spettacolo immersivo di foto, video, musiche, soprattutto musiche, ricordi, lo sto scrivendo adesso il testo, di ricordi di questi 50 anni della fabbrica dell'attore, ma partendo anche da prima perché io con Giancarlo Nanni siamo nati come compagnia diciamo nel 67-68, però ci chiamavamo Spencer of Action perché allora andavano questi così, i nomi un po' stranieri, un po' da rivoluzionari. E poi è diventata compagnia del Teatro La Fede e poi nel 74 è stato proprio messo il nome la fabbrica dell'attore. Quindi sono 50 anni di ricordi e quindi vi aspetto tutto per tutti per questa grande festa che si farà al Teatro Vascello alla fine di settembre per i 50 anni della fabbrica dell'attore e poi per tutto l'anno da vivere il Teatro Vascello è sempre aperto, abbiamo un bellissimo bar dove si può stare, chiacchierare tranquillamente, quindi è veramente un teatro sempre aperto, accogliente per tutti. Grazie.